15 10 però gli mettiamo forti fortini giudice boh vediamo com'è che sono esperto se esperto sono forti cioè va che per me esperto sono forti si te boh per me se la giocheranno anche loro guarda anche il rapporto morti e facciamo anche l'altro con lui e qui ci arriva quello è uscito a kill in caso si arriva più o meno uguali si conta a kill ma do 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 il po un paese fermo se sei non sono sei volte dono che poi questo qua col pompa più forti mistico non vedo nulla era bocchia visto qui che camper eliminato non si può esplodere io te lo sei 8 cazzo ma sono troppi qua 12 la difficoltà la mappa uccisione confermata uccisione confermata tentato un profile perché me l'aspettava un tot uccide sono un'altra confermata devi imparare ad usare la mitraglietta vale le tre anni che ho ucciso io io detto sono morto allora è un'altra continua a sparare invece ma tanti punti su di me ora dai basta dirlo cazzo guarda nessuna che c'era mi sta uno già morto sono tanti guarda la sua che mi uccidono cazzo non sono troppi da impegno guarda non sono fermo abbiamo ucciso la loro vedetta cazzo guarda che muovemi cazzo guarda che muovemi che lo scuola nemmeno cazzo guarda che è tante no mi sono suicidato vado non riesco a muovermi anch'io abbassiamo un po e botte si va boda sono troppi matti non si riesce a tornare abbiamo ucciso la loro vedetta 26 cazzo ma non spera che saltare quel centro poi ma vabbò poi quando uno si punta su di te sei morto guarda che riscopriare il best sono morto dai che sta vincendo io cazzo ma che li vedo io mi ammazzano io 16 morti tempo un po di più tu che ti guardi la mia mappa dai dice a me come non sono primo che prima un botto perfetto un indicativo possibile o lago decisione confermata guarda l'arbiata il 37 non si appostera più mercoledì 37 28 non muovi ma guarda come è stato il sede ma guarda come è stato il sede guarda 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 ma ne c'è nessuno di me che stai io mi sa qui sento io non posso capire mi sa dentro non posso capire ma avermi muovi ammazza conoscendi si è morto fra non muore e io sono anche la secondaria ogni tanto no che culo mi sono 46 merda guardi me fa schifo confermato per massacrata non vedo nulla mi hanno stordito chiesto qua un parico ma deve essere un campo abbiamo ucciso la loro vede non muoio fa un culo dello sparro muore per fortuna che ho messo la secondaria si è vendicato dai 9 schifo che schifo lui va in giro che si spara a casa ricognitore comunque no mi ha coltellato un botto mi piace sentire sta cosa mi piace sentire Eliminando Cazzo edi 67 Sparrow Mamma mia, devo tutta forte e non moriva sto qua però c'è ricognitore eliminato 73 mercoledì scambio in fretta neanche ucciso quanto sono migliorata né merda 77 ma basta dirlo che non me lo devo fare che tu lo devo pensare le kill sparò ma ti guarda la mia visuale per questo spam no mi stavo succedendo sono morto niente 78 o non riesco a fare una kill vabbè se non muori ma di secondaria 84 esatto abbiamo ucciso la loro apriti colpi 9 colpi e zero sono morto niente o sparo disponibile ma io lo spammone ora si realizzano un tocco di risparmiare ebbè se non sono spammone che lo sparo con cosa mi spavola di me ne ha matta ebbè sono morire ora che culo dai perché hanno sbocciato ma che non è impossibile solo per te non dai sono 91 no primo 92 non ci credo mi ha raggiunto 93 un'altra gioia ok ci ammazzo da dietro con un colpo da 95 da un lato basta dirlo ma va non spero un perfetto no 98 97 merda 98 sono vinto ma va dai terzo ma quanti cazzi molto fatto io 42 come rapporto su un secondo come rapporto su un botto prima si è stato mettere in camperabilia non è camperare dopo sta sconfitta brucia eh brucia